La Fiera delle Vanità, così il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia alla Regione Puglia, ha ribattezzato l'ultima edizione della Fiera del Levante di Bari. Un controbilancio corredato da un video ad hoc per analizzare l'andamento dell'86esima campionaria da un'altra prospettiva, che vede un bilancio complessivo fortemente negativo, con uno scarso appeal per gli investitori, problemi strutturali irrisolti, una visione mancante e soprattutto l'accusa rivolta alla maggioranza di centrosinistra di utilizzare l'evento più per una vetrina personale dei suoi esponenti di punta come Emiliano e De Caro che per la mission originaria che, a giudizio di Fratelli d'Italia, è ai minimi storici. Non si è parlato di impresa, non si è parlato di lavoro, non si è parlato di investimenti, ma si è parlato solo dell'addio di De Caro alla città e dei pianti di Emiliano a punta e di De Caro. Credo che questo sia un fallimento totale. Cosa proponete? Noi proponiamo intanto, adesso attraverso l'Istituto delle Interrogazioni, capiremo per bene quelli che sono stati gli investimenti, o meno da parte nostra, gli sperperi che la Regione Puglia continua ancora a perpetrare nei confronti e a danno dei cittadini pugliesi perché la Fiera di Levante, oggi i padiglioni sono fittati da agenzie regionali, si continuano a pagare l'autifitti, non se ne capisce perché. Lo ha detto anche la Corte dei Conti e quindi dobbiamo prima capire che impegno ha la Regione nei confronti di questa fiera. E soprattutto va definita una volta per tutte la questione dell'ospedale Covid che continua a mettere debiti per la nostra Regione. Idee chiare in Fratelli d'Italia quanto alle responsabilità? Le responsabilità sono prima di tutto dei soci e poi della Regione Puglia che ha la Golden Share nel nominare il Presidente e soprattutto nel mettere i soldi a disposizione. E quindi nomi e coniubi ben precisi, Michele Emiliano e Antonio De Caro. La disamina dei consiglieri regionali di FDI va oltre i confini cittadini baresi. Il governo Emiliano non ha una programmazione, ha completamente fallito. Una volta c'era un sistema feristico regionale che abbracciava più fiere in tutta la Puglia. Oggi si vive alla giornata, si vive in base alle richieste momentanee, si vive in base alle esigenze elettorali o di De Caro o di Emiliano. Tutto questo secondo noi non è corretto.